Ciao a tutti, questo video è del mese di agosto, senza i torri reduci, incominciamo subito. Vi faccio vedere alcune cosine che mi sono state mandate, alcune cosine fatte a mano. Allora, le prime sono un paio di orecchini e un braccialettino che mi sono state mandate da V17 La Minuteria. Le avevo anche intervistate per uno dei miei articoli dedicati alla rubrica Scoprire Handmade. E loro creano dei bijoux, dei gioiellini, utilizzando principalmente della minuteria da ferramenta. E mi hanno mandato molto gentilmente questo braccialetto, ed è molto carino anche perché hanno il loro logo personalizzato V17. Lo mettiamo, tanto sta anche bene come su un vestitore, quindi sì, lo teniamo. E poi mi hanno mandato questi due paio di orecchini carinissimi, anche questi molto fini ed eleganti. E sono dei cerchietti piccolini, in uno c'è la targhetta con il loro logo, e nell'altro c'è una targhettina normale. E sono molto carini, piccolini. E uh, ah, ups, piccolini e delicati, molto carini. Sempre parlando di creazioni handmade che ho ricevuto, vi faccio vedere queste che mi ha mandato Giorgio di Coe Design. E sono, cioè, sono rimasta senza parole quando ho visto tutto quello che mi ha mandato. Lei praticamente disegna i gioielli e poi li fa realizzare in metallo e bagnati d'oro, mi pare anche. E vi faccio vedere. Allora, questa bellissima spilla, che è una teiera di quelle con il gancetto normale da pin, però è tanto carina col cuoricino rossa, mi piace un sacco. smaltata. Poi, questa collanina, che secondo me è un concetto bellissimo. E sono, anche questi sono tutti gioiellini molto delicati, molto fini, secondo me. È praticamente il concetto del cuore dentro la casa, quindi il concetto di famiglia, il concetto che è molto molto carino, secondo me. E il cuore è smaltato da tutto e due le parti, quindi se anche si gira da una parte o dall'altra, il gioiellino rimane bello comunque, è da vedere. È tanto carino. E poi mi ha mandato una serie di cose a tema appi, perché mi ero lamentata, tra virgolette, non l'ha lamentata, però avevo fatto vedere un po', ultimamente mi era molto questa passione dei gioielli e degli accessori con gli animali sopra, farlochi con gli insetti. E quindi lei ha visto che aveva fatto appunto una linea con delle apette carinissime, ma me le ha mandate praticamente un set intero. E quindi mi ha mandato questa collana con l'alveare, anche questo ha delle parti smaltate nere, molto carine col cuoricino. E la collana è abbastanza lunghina, non troppo però. E poi queste che sono, per me, sono bellissime. Scusate, faccio un po' di ordine. E questa apetta che è... Questa è una collana super lunga perché va portata doppia. Dove sei, apetta? Ed è tanto, tanto carina. E questa collana, a parte che ha una catena molto carina perché è tipo lavorata in modo molto bellino. Quante volte molto carina e molto bellina ho detto. Comunque, sì, è una catena un po' particolare, non è una catena semplice e bassa. E va portata doppia. Quindi uno strato attaccato, diciamo, al collo, quindi aderente, a giro collo. E l'altro strato più lungo, che arriva più o meno a altezza seno, diciamo. Ed è tanto carina, secondo me, questa apetta. Mi piace un sacco. E insieme a questo mi ha mandato anche, diciamo, tipo sette gli orecchini. Anche se in realtà non li indosserei, non li indosserò, non li ho indossati mai insieme. E sono questi orecchini qua con la petta da una parte e il cuoricino dall'altra. Sono tanto carini anche questi. Ho fatto un ordine da bomperi perché mi serviva roba tipo reggiseni, slip, roba del genere, che non vi farò vedere. Però vi faccio vedere questi qui, che sono dei bragoncini, loro li chiamano leggings corti, sono nella categoria leggings, di cotone, che io li uso da mettere sotto la gonne quando non voglio usare magari le bande lezze, le bande elastiche o le creme, ma voglio qualcosa di proprio comodo. E ho preso questi qua perché sono bianchi, c'erano bianchi e neri. In realtà io li uso anche color nude e usavo quelli di sloggi, però questi sono più economici. Non so quanto dureranno, infatti li ho appena presi, vedremo. Anche perché, vabbè, andiamo perso fuori dalla stagione bella, però hanno il pizzico che in realtà per me non è comodissimo, però vabbè, questi ce li avevano così, da una confezione da tre, ce ne sono uno bianco e due neri, ma ci sono anche color beige e nero, mi pare. Ma erano sold out quando li ho guardati io. Quindi niente, vediamo un attimo come saranno, ve li volevo segnalare perché magari vi torneranno comodo per l'estate a mettere uno comodo. E insieme ho comprato anche, vabbè, un costume che non sono sicurissima di tenere, adesso vedrò, magari ve lo faccio vedere nel prossimo, nel caso lo tengo. E poi questo reggiseno da palestra. Non mi fa impazzire tantissimo le linee di abbigliamento, le linee per la palestra di Bonprix, perché non sempre sono di una grande qualità. Però questo non è male, non ha tantissimo supporto a livello del seno, il che per me va bene, però ha una banda elastica sotto molto solida, quindi comunque tiene bene. E la parte di fianco è un po' imbottita, di fianco è anche dalle strappe per il collo, quindi comunque sembra che possa reggere bene. Io comunque non ho un grossissimo seno, quindi non ho bisogno di mantenere tanto sostegno. E la cosa intelligente dei reggiseni sportivi di Bonprix è che ti segnano il grado di, diciamo, di sforzo che riescono a sopportare. Sono divisi in uno, due, tre, in base al tipo di attività fisica che può sostenere, ecco. E questo in più era carino. Non c'erano anche i leggings uguali purtroppo, ma erano sold out quando ho fatto l'ordine. Mi dispiace perché avevo tanto voluto fare il set, però vabbè. Ancora fatto a mano, però questa volta è un acquisto. Questa è una t-shirt che mi sono fatta fare su misura da Miss Tuffy. Ciao, non ho fatto che si chiama Miss Tuffy. Mi piace un sacco. E niente, sì, gli ho dato le mie misure a Sara, che è la proprietaria del brand. E lei le ha fatte su misura. Mi piaceva un sacco perché comunque è una t-shirt normale, anche se il cotone è bello sostenuto. Non particolarmente, non di quelle super elastiche, però un bel cotone. E mi piaceva un sacco perché ha questo dettaglio, non so se si vede, con le ruffles, con le valze sul davanti. Che non è perfettissimo se avete tanto seno perché vi allarga la figura. Però a me mi piaceva tantissimo. Questa stampa è adorabile e la t-shirt è eseguita in maniera impeccabile. Bellissima, secondo me. Ho fatto un ordine da Navabi per comprare questo vestito. Questo vestito per me è stato, questa stampa è stata un amore a prima vista. È un vestito a portafoglio con le ruche sul davanti e sul fondo. Per me è bellissimo. Non riesco a farvelo vedere così, ma l'ho già pubblicato sul blog, quindi vi lascio nell'info box il link se volete vederlo com'è indossato. E purtroppo questo mese non riuscirò ad aggiungere le clip dei vestiti indossati, anche se so che sono più comodi. Però purtroppo non ci riesco. Quindi questo magari se lo volete vedere lo trovate nel blog. Insieme anche alla recensione di acquisto da Navabi, che è un sito tedesco. È bellissimo. È leggero perché è comunque in viscosa, ma secondo me si adatta bene anche alla mezza stagione perché comunque ha un po' la manica a tre quarti, un po' più lunghina. E anche come lunghezza arriva al ginocchio, quindi è proprio per me il vestito comodo, perfetto. Poi magari ci metti sotto la calza o una canotta e secondo me lo puoi portare avanti anche nel tempo, diciamo, almeno in autunno. E la stampa è quello che ovviamente me l'ha venduto perché è geometrico, blu, bianco, nero, rosso con delle mezze facce. È bellissima, secondo me. È veramente, veramente bella. Mi sono arrivati un paio di occhiali da firmo, ne ho già parlato ampiamente, non mi starò a dilungare. Ho fatto un Get Ready With Me in cui vi mostro anche come sono questi occhiali. Ve lo lascio sempre nell'info box, sono rotondi, a me piacciono un sacco, li uso tantissimo, yay. Ho fatto un ordine da mango per usufruire dei saldi, ma tutto quello che ho preso l'ho rimandato dietro perché non mi piaceva. A parte questi che ovviamente non sono in saldo, non li avrei dovuto comprare, li ho comprati perché li avevo visti in negozio e mi sono piaciuti un sacco. Sono un paio di occhiali da sole a forma di cuore. La cosa figa secondo me di questa forma è che sì, ok, sono a cuore, ma non sono esageratamente a cuore. Sono un po' spigolosi, che sono il modello che andava molto quest'estate anche adesso, che richiamano un po' gli anni 90. E quindi sì, sono anche abbastanza sobri, nonostante siano a cuore, ma sono bellissimi. Da tantissimo tempo volevo prendermi un maglione con le righe arcobaleno, purtroppo quelli che, come lo volevo io, non lo trovavo, non c'era la taglia, insomma, ma, 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 ma. Finché ho visto che Monkey ne aveva rilasciato uno. Purtroppo è andato sold out alla velocità della luce, anche perché comunque era uscito qualche mese fa, tipo, ho detto, no, dai, non prendo il maglione d'estate. Purtroppo poi è andato sold out finché non ho visto che l'hanno rimesso. E quindi l'ho preso subito, io ho preso una XL, ma secondo me andava bene anche la L in realtà, perché è molto ampio. E mi piace perché è cortino, è un taglio oversize, quindi comunque veste bene. E mi piace un sacco perché le maniche fatte così, quindi si rimborsano tantissimo, sono un manicone, io le adoro le manicone. Non è particolarmente, cioè giro collo ma non stringe troppo, ed è appunto multicolore dell'arcobaleno. E io adoro, mi piace un sacchissimo. Non è particolarmente pesante, è 100% acrilico, però, vabbè, non l'ho preso per... Io di inverno comunque non uso maglioni di lana o di cashmere, mi fanno troppo caldo. Quindi preferisco avere magari una cosa del genere e metterci sotto qualcosina per avere più... perché mi tenga più caldo. E questo comunque penso che lo userò tranquillamente anche nella mezza stagione. Intanto che c'era ho preso anche altre due cosine che non ne ho preventivate, o meglio, questa... Questa... mi piaceva tantissimo la stampa e ho resistito tutta estate per non prenderla. Poi quando ho fatto l'ordine glielo ho messo dentro, perché... perché sì... Ed è una camicia, un vestito camicia, un camicione fondamentalmente. Ma anche questo, la stampa, mi sono innamorata della stampa. È questa stampa su sfondo bianco, con bocche, mani, occhi, stelle, non lo so, è tanto bellina. E non è passata la mezza stagione, anche se secondo me ci si può lavorare su. È in viscosa, quindi è leggera. È appunto un camicione in forma, è lungo-largo. Quindi io lo metterò comunque con delle cinture, una cintura comunque. Ed è tanto, tanto carino, secondo me. E infine ho preso un paio di orecchini, che vi mostro... dove? L'ho perso uno, l'ho messo via dall'altra parte. Ed è un orecchino con una sagoma di donna, corpo di donna. E mi piacciono un sacchissimo questi qua, li ho visti molto in giro. E mi piacciono molto quelli, sono semplici, ma d'effetto secondo me. Infine ho preso due libri su Amazon. Il primo è La Guida di Atene. Fra tre settimane parto, vado ad Atene. Se avete... io compro sempre le Lonely Planet, perché a me piacciono tantissimo. Questa purtroppo è vecchia. Era l'ultima edizione che hanno stampato, era del 2016, ma mi serviva comunque una guida. Che vabbè, non sarà aggiornatissima per quello quanto riguarda magari prezzi e ristoranti. Però a me in genere mi serve più che altro per le zone. E quindi questa è tanto carina, le porto sempre indietro. Sono piccole, comode, stanno nelle borsette. Perfette. Se avete... se siete state d'Atene e avete suggerimenti su dove andare, su dove mangiare, su cosa vedere assolutamente, su cose meno turistiche che magari conoscete perché le avete scovate mentre la lavate in giro, spiagge, cose così, fatevi sapere. A prezzo. Grazie. L'altra cosa che ho preso su Amazon quando ho fatto questo ordine è questo libro. Questo è un micro libro che ancora non mi ci sono dedicato a pieno per studiarlo. Si chiama Beginner's Guide... oddio, in inglese, leggerlo. Beginner's Guide to Silk Ribbon Embordery, ovvero il ricamo con i nastri di seta. Oh, ce la posso fare. A proposito di seta, questo kimono è di seta e ho realizzato il tutorial. Rimanete sentenzializzati perché prossimamente ve lo mostrerò, lo pubblicherò. Direi la settimana dopo che pubblico questo video. Oppure l'ho già pubblicato. Sorpresa, sorpresa. Comunque, rimanendo in tema, era da un po' che osservavo questa tecnica. Mi piace tantissimo perché secondo me si possono fare delle cose meravigliose. Non so ricamare, non ho la più palida idea di come si faccia. Non credo di avere la pazienza di ricamare, però intanto ho comprato questo libro che è in inglese. 8 euro l'ho pagata. Per vedere, insomma, di buttare giù le basi se ci riesco a capire qualcosa. Non vi so dire se è un ottimo libro per iniziare o no, perché appunto ancora non ho fatto niente. Guarda che carini questi fiorellini. Però magari se vi interessa vi posso far sapere se ci ho messo mano e se la cosa è andata in porto. E niente, breve, concisa, veloce, questo mese è stata abbastanza bravina. Mi sono abbastanza contenuta. Yeah. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao! Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima.